Buongiorno da Rancate e dalla Pinacoteca Sustra, tolgo la mascherina dal momento che sono qui da sola, come tutti i musei infatti siamo fusi al pubblico. Il nostro personale però si è riorganizzato per poter essere presente a rotazione e poter garantire la cura delle opere e le attività base della Pinacoteca. Quella espositiva infatti è soltanto una delle attività di un museo. Come dice lo statuto dell'ICOM, il museo è un'istituzione permanente, lo leggo, senza scopo di lucro al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, qui purtroppo per il momento dobbiamo evitare, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva e le comunica e le espone per scopi di studio, educazione e biletto. Non possiamo temporaneamente esporle e condividerle con voi, quello che però possiamo e dobbiamo fare in questo momento è continuare a conservarle, studiarle e comunicarle. E quindi quello che faremo nelle prossime settimane con la rubrica A casa con la Pina, stiamo inoltre facendo partire un nuovo progetto che è Cronache dalla Pina e i colleghi che saranno presenti in museo invieranno dei video a quelli che stanno lavorando da casa per raccontare un po' della nostra quotidianità, per farvi scoprire che cosa succede dietro le nostre porte che sono temporaneamente chiuse e per stare un po' insieme a voi. Quindi, anche se restiamo a casa, restiamo vicini. Grazie, a presto!